Ehi, lo sai che su Fandomian puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie tv, anime e trovi di tutto Magliette, Funko Pop, Action Figure e con il coge Jacksad hai anche un piccolo sconto, link in descrizione E torniamo a parlare del film più bello del mondo, ovvero Morbius Ebbene, pare che la Sony abbia voluto fare una piccola modifica al film Piccolissima, è giusto un taglietto, il film anima una grandissima schifezza La Sony, ragazzi, ha fatto un piccolo taglietto al film nell'ultima scena post-credit Ovvero quando l'avvoltoio si presenta a Morbius e nel presentarsi parla di Spider-Man Quella scena, ragazzi, non aveva il minimo senso perché l'avvoltoio parlava di Spider-Man con Morbius Morbius non sapeva manco chi era L'avvoltoio poi dava la colpa a Spider-Man del multiverso, del fatto che lui si era spostato da un mondo all'altro Insomma, non aveva senso quel dialogo E pare che quindi la Sony l'abbia tagliato per far quadrare un po' di più il tutto Guarda, Sony, apprezzo veramente pochissimo, pochissimo questo taglio perché ormai il danno l'hai fatto Però almeno in questo modo forse si potrà trovare un senso più avanti nei prossimi film che faranno in questo Sony Spider-Man merda universe Ora, nei prossimi giorni uscirà già la versione digitale del film perché comunque al cinema è andato a malissimo Alla fine ha guadagnato tipo 160 milioni, pochissimo, pochissimo Credo sì, hanno recuperato i soldi del budget, questo sicuramente Però, cioè, 160 milioni è veramente un flop assurdo ragazzi Quindi ora puntano tutto sulle vendite della versione digitale Probabilmente questa storia del taglio che girerà un po' su internet È stata fatta anche un po' apposta per attirare il pubblico a vederlo, acquistarlo anche in digitale Io voglio vedere poi questa scena come l'hanno tagliata, se anche nella nostra versione italiana c'è questo taglio Ma credo che dovrebbe valere per tutti E niente, ma comunque il film non cambia, continua ad essere una schifezza Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate Se per voi cambia qualcosa, se apprezzate questo taglio da parte di Sony Io ripeto, posso apprezzarlo fino a un certo punto perché come fai a non pensarci prima voglio dire Cioè, veramente deve arrivare poi al cinema che il film fa schifo che ti floppa E pensare, ah, ma questa cosa magari la potevo fare meglio, la potevo tagliare Cioè, vabbè, ormai ripeto, è fatta Ditemi cosa ne pensate Iscrivetevi al canale su Twitch e tutti i altri social nella descrizione Io ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima Ciao a tutti